Dove nasce la passione per il paracadutismo e quali sono gli step necessari per avvicinarsi a questo sport? In questo video ne parlo con il direttore della scuola di paracadutismo Skydive Venice, diretta e creata da Brunone Bellingardo. Mi trovo con Brunone della Skydive Venice, vediamo un attimo di esplorare com'è questa attività. Brunone, quando è nata la Skydive Venice e quali sono gli obiettivi? Prima era Clè Paracadutisti Veneti, dopo abbiamo fatto Clè CPV per tirare via Veneti perché a qualcuno non piaceva sentire la parola Veneti e dopo abbiamo fatto la Skydive Venice, credo una diecina di anni fa, 12 anni fa. I nostri obiettivi della nostra attività sono quelli di fare divertire le belle ragazze, i bei ragazzi e di far divertire un po' tutti. Senti una curiosità, qui c'è tantissima attrezzatura, quindi paracaduti, attrezzi per misurare la pressione, occhiali, ma più o meno quanto può costare tutta questa attrezzatura per fare un lancio? L'attrezzatura può variare dai 8.000 ai 10.000-12.000 euro per un singolo paracadutista, dipende poi di quante tutte necessita perché ogni tutta ha il suo valore. Poi dopo ci aggiungiamo le videocamere, le macchine fotografiche, è un po' varia la cosa, è ovvio che quando uno comincia a fare i primi lanci queste cose non le compra ma le noleggia qui da noi. Senti tu sei un esperto del lancio col paracadute, quanti lanci avrei fatto in vita tua e quali sono le emozioni che hai prima di lanciarti? Per me è sempre un'emozione lanciarmi, dopo la soddisfazione più grande è quando ho l'allievo davanti a me, ho il passeggero davanti a me che lo vedo sorridente, che è felice. Non sento mai nessuno che si lamenti che ha avuto paura, è ovvio che hanno paura all'inizio però dopo io sono in grado, io e anche i miei collaboratori a trasmettere la sicurezza a questi ragazzi che li facciamo lanciare tutti col sorriso sulle labbra. Qualcuno che vorrebbe approcciare la disciplina, lo sport e il paracadutismo, cosa gli consiglieresti e quali sono brevemente gli step da seguire? Beh prima cosa consiglierei di fare un lancio in tandem e poi dopo da lì lui capisce se la cosa gli può piacere o no, basta che venga qui a fare 12 ore di teoria e dopo le 12 ore di teoria incomincia l'attività lancistica con due istruttori, facciamo il corso AFF, un corso moderno, cioè una tecnica che è da 30 anni che è fuori, prima non c'era questa tecnica qui, adesso è stata perfezionata e si possono avvicinare tutti al mondo del paracadutismo. Se vuoi provare l'emozione di un lancio con il paracadute senza effettuare dei corsi veri e propri, anche la Skydive Venice è prevista questa possibilità del lancio in tandem, ossia con istruttore agganciato alla propria schiena. Per maggiori informazioni ti lascio il link in descrizione, mi raccomando se questo video ti è piaciuto metti un bel mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al mio canale YouTube. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo con un nuovo video!